aggiornamento tre sessantaquattro Wattakitten cavalli che sono partiti fatto partenza Eleonora Big insieme a Battle largo JJ Liri a contatto Nike Blue, Orius percorsi esterne poi Noir Blue in coda o Wattakitten i sette cavalli raccolti quando si va a completare la retta opposta alle tribune ingresso sulla piegata con Eleonora Big in vantaggio pressata all'esterno da JJ Liri quindi Battle Orius, O'Wattakitten, Noir Blue, Nike Blue. In tale ordine si affronta e si completa la curva con Eleonora Big che si mantiene in vantaggio nei confronti di JJ Liri a largo Orius percorsi interno si lancia Battle poi O'Wattakitten, Noir Blue e Nike Blue con Eleonora Big che è attaccata all'interno da Battle poi O'Wattakitten in mezzo alla pista Eleonora che si mantiene in vantaggio nei confronti di O'Wattakitten, O'Wattakitten che si lancia su Eleonora Big, Eleonora all'interno O'Wattakitten all'esterno sul traguardo O'Wattakitten precede Eleonora Big e Battle. 8-3-2 sono i numeri ufficiosi per quanto riguarda questa seconda corsa del pomeriggio vince O'Wattakitten numero 8 dello schioramento i colori sono quelli del signor Francesco Magliari il training di Antonio Peraino Michael Harris in sella 3 e 54 la quota grazie a tutti